Benvenuti a Casa Poderosa, una location unica dove trovare a pranzo e a cena pasta fatta in casa, carni selezionate e frollate nella nostra cella a vista e la gustosa pizza alla pala. Tutti i martedì serata latina, venerdì e sabato cena con musica nella nuova Sala Flora. Dove vai stasera? Vado a Casa Poderosa! Mi piace! Anche a Natale e Capodanno!